Nel teatro dello stabilimento Principe di Piemonte, la giuria del decimo premio Viareggio, a mezzo del suo presidente accademico Marinetti, alla presenza del ministro della cultura popolare e sua eccellenza Altieri, ha comunicato la decisione presa all'unanimità di attribuire l'ambito premio letterario ex equo a Maria Bellonci per Lucrezia Borgia, ad Arnaldo Frateili per Clara Frailupi e a Orio Vergani per Basso Profondo. Dopo aver messo in luce l'azione che per volere del duce il regime svolge per l'incremento della letteratura e della cultura italiana, il ministro ha consegnato il premio ai vincitori, presenziando quindi l'affrirsi delle danze e un fantasmagorico spettacolo di cuochi tirotecnici nella tepida notte di Areggina. Grazie 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 a tutti.